Ben trovati ad una nuova edizione del Rieti Life Tg, l'appuntamento quotidiano con tutte le notizie di Rieti e della provincia su rietilife.com, Facebook e Instagram. È partita oggi pomeriggio la vaccinazione anti-Covid sulla fascia d'età dai 5 agli 11 anni. Sono stati circa 70 i piccoli reatini che si sono sottoposti alla vaccinazione. I dettagli nel servizio di Cristian Diociaiuti. Si chiamano Mia, Aaron, Francesca, Rosa. Sono alcuni dei piccoli reatini che oggi si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Cosa c'è di straordinario? Sono i primi a Rieti nel Lazio e in Italia a ricevere le dosi nella fascia 5-11 anni, quella che recentemente è rimasta più colpita dai contagi, oltre il 20% dei nuovi positivi in tempi recenti nel reatino. Vogliono tornare a essere liberi, più spensierati, tornare a giocare senza paura con i loro coetanei. Alcuni sorridenti, alcuni timorosi non hanno fatto neanche in tempo ad accorgersi della punturina Pfizer. Con loro almeno un genitore, ma anche i clown dottori dell'associazione Rieti Cuore. E poi, nell'attesa e nell'osservazione, cartoni animati, dolcetti natalizi in un sacchetto e un diploma di coraggio. La prima bimba vaccinata, Rosa, è stata presa in carico dall'infermiera Sara Miele, che a sua volta è stata la prima vaccinata a Rieti. Ormai un anno fa. Come fatto per tutta la campagna vaccinale in tutte le sue fasi, Rieti è apripista in Italia anche per i vaccini ai più piccoli. Sono stati accolti circa una settantina di bambini, ma sono già 150 i piccoli prenotati tramite segnalazione del pediatra di famiglia, mentre vanno avanti le prenotazioni sul portale Perenota Vaccini Lazio. Signora, ma i bambini li ha dovuti convincere o gliel'hanno chiesto loro? Ma Aaron me l'ha chiesto lui, veramente. La bambina invece aveva un po' più paura, però anche lei era propensa a fare il vaccino. Scendono i positivi totali nel Rietino e si attestano a 525. Nell'ultimo monitoraggio dell'ASL di Rieti 35 nuovi casi registrati e 46 i negativizzati, su un totale di 810 tamponi eseguiti. In città invece 9 i nuovi positivi e 13 i guariti, con il totale delle persone in sorveglianza ASL che scende ora a 136. Va avanti la campagna vaccinale con la somministrazione dei booster. Diminuiscono i Novavax reatini con oltre 8.500 nuovi vaccinati. Il totale delle somministrazioni sale a 224.000 e le terze dosi sono 29.000. Sono stati attimi di paura nel pomeriggio di oggi per un incidente quando un'auto con a bordo una donna è finita in un fossato sulla Salaria per l'Aquila, all'altezza dello svincolo della superstrada Rieti Terni a Villariatina. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente e la direzione di marcia del mezzo, che è finito fuori strada finendo la sua corsa nella vegetazione folta a bordo della carreggiata. La donna è stata estratta ferita dalla sua auto e portata al Delellis, sul posto vigili del fuoco, polizia, polizia locale oltre ai sanitari del 118. Alcuni vandali hanno danneggiato nella notte tra martedì e mercoledì il campo Giacomo Ramacoggi di Cantalice, danneggiati interni ed esterni del campo sportivo. Non è stato rubato nulla, ma i danni sono parecchi e ci costeranno molto, dicono dalla polisportiva Cantalice, che ha denunciato il fatto ai carabinieri. Boccaccio che racconta Dante dalla penna di Pupi Avati. Presentato oggi pomeriggio alle Tre Porte in Via della Verdura, il libro L'Alta Fantasia, edito da Solferino. Si tratta dell'ultima fatica letteraria del regista di tanti film famosi come Il Signor Diavolo e gli amici del bar Margherita. Avati ha incontrato i lettori e parlato della sua opera, ambientata nella Ravenna del 1300. Firma copie, foto e selfie con il regista. Chiara Gerardi passerà dalla velocità pura ai 400 metri. L'annuncio dell'atleta che si allena a Rieti con addosso la maglia delle fiamme gialle arriva nella puntata di Nona Corsia, disponibile dalle 21 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Allenata da Chiara Milardi, Gerardi si racconta nella trasmissione condotta da Cristian Giociaiuti. Ospite anche il tecnico degli ostacoli, Daniele Focaccetti. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. L'appuntamento è domani alle 20.45 su rietilife.com, Facebook e Instagram. Buona serata. L'appuntamento è domani alle 20.45 su rietilife.com.